Anticipazioni Beautiful, scontro tra Steffi e Thomas dopo la confessione, puntata intera del 18 gennaio 2024. Benvenuti nel nostro canale. In questo nuovo video vi daremo un'anticipazione di quanto accadrà in futuro nella SOP. Vi preghiamo però di supportarci mettendo mi piace al video ed iscrivendovi al canale. Nella casa di Brooke, Brooke è al piano di sopra e si chiede se Rige andrà davvero avanti con il matrimonio. Al piano di sotto, Katie dice a Bill che ha ottenuto un'altra possibilità di stare con Brooke. Bill risponde che la possibilità che ha chiesto più e più volte è stata con Katie. Bill afferma che Katie è l'unica donna che desidera e le chiede di tornare da lei. Katie risponde dicendo però di sapere che Bill si è precipitato da Brooke dopo il suo viaggio ad Aspen, proprio come aveva detto lei che avrebbe fatto. Katie non vuole che Bill finga di non essere lì per Brooke. L'ipotesi di Katie è che Brooke lo abbia respinto e che poi lei sia entrata in casa e lui abbia colto al volo la sua seconda opzione. Carter, che ascolta fuori sul terrazzo, sorride soddisfatto. Katie dice che non vuole scherzare o essere sbrigativa perché sono stati molto importanti l'uno per l'altro. Ed è il padre del suo bambino. Le piace vedere Bill con Will e vuole solo che Bill sia felice. Katie decide che vuole essere felice anche lei, ma Bill non può renderla felice perché non è felice. Dice che non può darle ciò di cui ha bisogno o merita. Si sente di meritare un uomo che l'ami solo. E quell'uomo non è Bill. Katie sale al piano di sopra per controllare Brooke e Carter finalmente entra attraverso il terrazzo. Carter affronta Bill per aver detto le stesse cose a Katie che aveva detto a Brooke e Carter ringrazia Dio che Katie abbia respinto Bill perché merita di meglio di Bill. Bill gli chiede se non doveva presiedere un matrimonio in quel momento e Carter gli consiglia di smettere di mentire a Katie perché è troppo intelligente per essere la seconda scelta di qualcuno. Carter chiede come Bill non riesca a vedere quanto sia straordinaria. Bill fa una battuta dicendo che è per questo che l'ha sposata due volte. Inizialmente Bill non sa perché a Carter importi. Tuttavia, qualcosa improvvisamente si fa strada in Bill e comincia a ridere. Dice a Carter di stare lontano da Katie. Carter dice che Bill non ha il diritto di chiedere questo. Bill insiste sul fatto che non sta chiedendo. Bill sostiene che, indipendentemente da ciò che ha detto a Brooke, Katie è la sua ex moglie e la madre del suo bambino. In cima alla scala di Brooke, Katie ascolta mentre Bill chiama Katie sua moglie, ma Carter corregge dicendo che Katie è l'ex moglie di Bill. Bill dice che Katie non riguarda Carter, ma Carter decide che sta rendendo Katie affare suo, specialmente dopo che Bill ha professato il suo amore per lei subito dopo averlo fatto con Brooke. Carter dice che Bill ha sprecato la sua occasione con Katie per sua sorella, e Katie merita un uomo che si impegni solo per lei. Nel frattempo, nel salotto di Eric, Ridge ringrazia Eric per aver ospitato il matrimonio. Eric si chiede quando rifiuterebbe di ospitare un matrimonio, soprattutto uno di Ridge. Ridge indovina che sarebbe uno che Eric non approverebbe. Eric afferma di sostenere Ridge e Taylor, ma ammette che avrebbe sostenuto Brooke e Ridge un po' di più. Eric chiede se Ridge è sicuro del matrimonio e se è davvero sicuro di voler sposare Taylor solo a causa della chiamata di Brooke ai servizi di protezione dell'infanzia. In quel momento, Finn arriva con Lee e Kelly. Finn porta Kelly nel salotto per vedere Hayes, e li congratula Ridge, riuscendo solo ad immaginare quanto fosse entusiasta Taylor in quel momento. In una camera degli ospiti nella casa di Eric, Taylor dice a Thomas che vorrebbe che Ridge le avesse detto della chiamata ai servizi di protezione dell'infanzia. Dice che aveva creduto a Ridge quando le aveva detto che il loro riavvicinamento non aveva nulla a che fare con Brooke. Thomas risponde che Ridge ama Taylor e non avrebbe mai dovuto lasciarla. Thomas non vuole che lei lo dimentichi mai. Taylor è felice di avere i suoi figli al matrimonio. È orgogliosa di loro e del modo in cui Thomas ha cambiato la sua vita. Thomas dice che lei lo ha aiutato, e lei può contare su di lui. Taylor abbraccia Thomas. Tornando giù, Eric si chiede dove sia Carter, e Ridge spiega che Carter sta prendendo dei gemelli per camicia da Brooke. Carter poco dopo arriva, scusandosi per il ritardo. Eric dice che comunque non possono iniziare senza Carter. Mentre Ridge mette i gemelli, Lee, Finn, Carter ed Eric si mettono insieme e chiedono a Ridge di fare una foto. Mentre lo fanno, Ridge vede una foto di Brooke sul suo telefono. Nella stanza di Douglas, Douglas è preoccupato che suo padre sia arrabbiato con lui. Ma Steffi dice di non preoccuparsi per quello. Steffi chiede se Douglas è certo di ciò che le ha detto. Lui risponde che Thomas lo ha ammesso e gli ha ordinato di cancellare l'app e dimenticarsene. Douglas pensa che avrebbe dovuto farlo e mantenere il segreto, ma dice che semplicemente non era giusto. Steffi è d'accordo e dice a Douglas di non preoccuparsi di Thomas e che si occuperà lei di lui. Poi ascolta di nuovo la registrazione e dice che suona esattamente come Brooke. Steffi chiede di sentire l'originale con la voce di Thomas e Douglas la riproduce. Proprio in quel momento Thomas entra nella stanza e chiudendo la porta della camera dietro di sé e Douglas nasconde il telefono dietro la schiena. Thomas chiede al bambino cosa abbia fatto. Una Steffi delusa chiede cosa invece abbia fatto lui e come possa essere stato così crudele. Thomas finge che ci sia stato un malinteso, dicendo che lei sa come sono i bambini e le loro app. Steffi, però, dice di non addossare la colpa al bambino. Thomas chiede a Douglas di dirlo a Steffi, ma lei dice di smetterla di mentire. Steffi avverte Thomas di non scaricare la sua rabbia su Douglas, che non dovrebbe essere punito per aver detto la verità. Steffi dice a Douglas che ha fatto la cosa giusta. Douglas lo sa e dice che vorrebbe che suo padre lo sapesse anche lui. Steffi prende il telefono di Douglas per assicurarsi che Thomas non cancelli alcuno dei file su Brooke e manda Douglas a stare con gli altri bambini. Una volta che Douglas è andato, Thomas chiede se Steffi farà finta di provare pena per Brooke. Steffi sostiene di provare pena per suo figlio, che non dovrebbe mai trovarsi in quella posizione. Thomas dice che non riesce a credere che Douglas abbia recuperato i file e, quasi soddisfatto, dice che è proprio un bambino intelligente. Steffi chiede come Thomas possa aver pensato di incastrare Brooke. Thomas risponde che l'ha fatto invece e ha riunito i loro genitori. Chiede cosa centri con quella finta indignazione. Steffi fa un passo verso la porta, dicendo di aspettare finché i loro genitori lo sapranno. Thomas la ferma e dice a Steffi di non fare assolutamente nulla per impedire la riunione dei loro genitori. Thomas spiega che Taylor e Ridge staranno insieme e Brooke uscirà dalle loro vite. Tutto ciò che Steffi deve fare è stare zitta. Steffi insiste sul fatto che non vuole che sia basato su bugie e inganni. Thomas prova a dirle che neppure lei è sempre stata onesta e in regola quando si trattava di entrare nei sistemi di sicurezza e bloccando le chiamate telefoniche e Steffi dice che è diverso. Steffi non vuole che Ridge sposi Taylor per motivi sbagliati. Thomas dice che Ridge ama Taylor e che non ha niente a che fare con Brooke. Steffi dice a Thomas di dire la verità se è così e se Ridge è impegnato con Taylor non cambierà nulla ma Thomas rifiuta. Steffi dice che lo dirà a loro. Lo sfida a cercare di fermarla. Taylor entra nella stanza con il suo vestito da sposa. Aveva sentito i suoi figli litigare dal corridoio e chiede di cosa potessero discutere nel giorno del suo matrimonio. Thomas dice che non è un grande affare ma quando Steffi dice che c'è qualcosa che Taylor dovrebbe sapere Thomas le intima di lasciar perdere. Steffi dice che riguarda Taylor e Ridge. Piangendo Steffi afferma che avevano desiderato quel giorno per così tanto tempo. Avevano pregato per quello e ora Taylor chiede cos'è. Steffi risponde che Taylor e Ridge devono sentire ciò che Thomas ha fatto e potrebbe cambiare tutto.